Continuano i disagi per i pendolari romagnoli, costretti ancora a fare i conti con i notevoli disservizi del trasporto ferroviario. Sempre numerose infatti le soppressioni di treni, con centinaia di persone impossibilitate a raggiungere per tempo il posto di lavoro lontano da casa in quanto lasciati a piedi. E tutto proprio quando le difficoltà del traffico automobilistico, in primis trovare dove poi parcheggiare l'auto, potrebbero essere superate da un servizio ferroviario efficiente. E più penalizzate sono di certo i pendolari ravennati. Per chi risiede a Ravenna, Lugo, Cervio e in altri centri della provincia romagnola, il viaggio in treno verso Bologna, Rimini o le altre città emiliane spesso è una chimera. Le penalizzazioni derivano anche da problemi di geografia ferroviaria. Non essere sulla ben più servita direttrice della via Emilia ha il suo ovvio peso, ma va anche sottoneato come proprio su quelle steline, non proprio di primo piano, come la Ravenna Faenza, la Ravenna Rimini o Ravenna Ferrara, viene utilizzato materiale rotabile decisamente obsoleto con una percentuale di guaste molto alta che poi sale alle stelle in situazioni eccezionalmente negative, come quelle provocate dalle forti nevicate e il gelo di questi giorni. Sembra che il materiale rotabile, locomotore e carrozze, sia andato fuori uso con percentuali vicino al 50%. Nella speranza che si possa tornare alla normalità nel più breve tempo possibile, la Regione Emilia-Romagna ha annunciato che comunque multerà a Trenitalia, che dal canto suo dovrà anche fare i conti con i danni dei suoi mezzi, ma anche con quelli d'immagine.